Ben ritrovati a Medex News. Oggi parliamo di una importantissima ricerca italiana che ha scoperto la cellula staminale responsabile del grasso e anche quelli del grasso e diabete. E ne parliamo proprio con il professore che è stato a capo di questo studio, il professor Saverio Cinti dell'Università Politecnica delle Marche. Grazie professore di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora professore, individuata questa importantissima cellula staminale da cui originano le cellule adipose. Questo apre davvero tantissimi nuovi scenari, no? Beh sì, diciamo che questa è una domanda che ci siamo fatti tutti nel momento in cui abbiamo cominciato a studiare il tessuto adiposo perché ovviamente l'origine delle cellule adipose rappresentano il fulcro della fisiologia di questo sistema. E che cosa secondo lei questa scoperta cambierà in quello che è poi ovviamente anche la gestione di alcune patologie come il diabete per esempio? Beh innanzitutto sapere che la cellula endoteliale e la cellula diciamo così staminale del tessuto adiposo pone, offre una risposta a tante cose come mai questo tessuto, questo organo perché sono tanti anni che noi abbiamo ormai dimostrato che non si deve più parlare di tessuto ma si deve parlare di organo adiposo perché effettivamente risponde a tutte quelle che sono le caratteristiche della definizione di organo e le cellule di questo organo sono cellule particolarmente importanti perché ci consentono di sopravvivere tra un pasto e l'altro. Io dico sempre ai miei studenti no ma adesso è difficile pensare l'importanza di sopravvivere tra un pasto e l'altro, in realtà basta che andiamo indietro di poco nel tempo, quando dico poco dico mille anni, duemila anni, tremila anni e si capisce come fosse difficile allora raggiungere un pasto successivo. Se noi non avessimo avuto questo organo che durante l'intervallo rilascia le molecole che ci consentono di sopravvivere saremmo estinti da milioni di anni. In particolare bisogna ricordare che una di queste molecole rilasciate dalle cellule adipose va a consentire la vita di un organo del nostro organismo che lavora 24 ore su 24. Qual è questo organo? Il cuore. Se non funziona il cuore non funziona nient'altro e quindi le molecole rilasciate dalla cellula adiposa sono immediatamente captate dal cuore che ha bisogno di nutrimento 24 ore su 24. Ma questa è solo una parte minima della funzione della cellula adiposa. Pensate che questa cellula produce anche due ormoni che sono fondamentali per il nostro comportamento istintuale. Qual è il comportamento istintuale? Quello che ci consente di sopravvivere e qual è la prima cosa che dobbiamo fare per sopravvivere oltre che a respirare? Dobbiamo assumere nutrimento. Bene ci sono due ormoni prodotti proprio da queste cellule che vanno a regolare la nostra assunzione del cibo. Una scoperta più di 20 anni fa che si chiama leptina. Quando si abbassano i livelli di leptina si va e si ha una forza interiore molto importante per andare a cercare nuovo cibo. Anche questo è una cosa difficile da capire al giorno d'oggi dove abbiamo il cibo dappertutto. Ma pensate un attimo al soggetto della caverna, all'uomo della caverna, alla preistoria dove uscire dalla caverna per andare a cercare il cibo, significava porsi di fronte alle belve feroci, andare incontro a una possibile morte per raggiungere il cibo. Allora se non c'era questa forza interiore che spinge il nostro cervello a andare a cercare il cibo saremo anche lì morti di inedia pur di non essere divorati dalle bestie feroci. Ma la cosa ancora più interessante è che solo pochi anni fa, quattro anni fa, è stato scoperto anche un altro ormone prodotto dalla cellula diposa che si chiama asprosina. Bene, l'asprosina ha funzioni straordinariamente importanti perché non basta avere l'istinto per andare a cercare nuovo cibo ma poi raggiunto il cibo bisogna assumerlo, bisogna fare l'atto di prendere, mangiare, masticare eccetera. Bene, questo atto è dettato da questo ormone asprosina senza il quale si va incontro a una lipodistrofia, cioè una perdita totale dei lipidi del nostro corpo fino ad assumere un fenotipo scheletrico. Molto molto importante quindi anche questo aspetto qua. Bene, le cellule adipose quindi sono straordinariamente importanti per sopravvivere, ma anche loro hanno una durata limitata nel tempo che è di dieci anni e se non ci fosse questa cellula staminaria che abbiamo scoperto che sta dentro i vasi sanguigni e che si forma in senso adiposo nel momento opportuno, cioè quando le altre cellule hanno raggiunto il loro limite di vita, non potremmo avere l'organo adiposo e l'organo adiposo come ho detto prima è essenziale. Adesso io non so quante ore di tempo ho. No, 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 no. No, abbiamo 30 minuti innanzitutto si vede giustamente che lei, oltre a essere un bravo ricercatore, è un bravissimo anche docente perché anche per coloro che ovviamente non facciamo parte dei suoi corsi di anatomia si riesce a comprendere facilmente quello che lei sta dicendo perché i tre spettatori a casa adesso magari si stanno domandando. Ecco, ma hanno fatto questa scoperta, hanno scoperto questa cellula staminale del grasso, ma questo cosa cambierà? E questo cambia, cambia tantissimo perché ovviamente si riesce a capire che c'è già una differenza tra quello, come noi chiamiamo comunemente il colesterolo buono e il colesterolo cattivo, credo professore che ci sia un grasso buono e un grasso cattivo, in qualche maniera, se vogliamo renderlo più facilmente comprensibile a chi ci segue. Sì, lei pone il dito esattamente sul punto cruciale della questione, nel senso che per parlare di organo, come ho parlato in precedenza, non basta un tipo solo di cellula, che è quella che ho descritto prima e che tecnicamente si chiama adipocita bianco o cellula adiposa bianca, perché le zone dell'organo costituito da queste cellule hanno questo colore. Ma esiste anche un altro tipo di cellula, sempre chiamata cellula adiposa o adipocita, ma bruna, perché le parti dell'organo composte da queste cellule assumono questo colore bruno. Allora, come dico sempre ai miei studenti, se c'è un'anatomia diversa, c'è anche una fisiologia diversa. E perché queste zone sono brune? Perché le cellule sono fatte in maniera diversa e in modo tale che il colore che ne risulta nell'organo è bruno, particolarmente dovuto al fatto perché hanno dei mitocondri molto grossi e molto abbondanti. Sono questi probabilmente quelli che danno il colore bruno. Bene, cosa fa la cellula bruna rispetto alla cellula bianca? La cellula bianca, abbiamo visto prima, che fa queste funzioni essenziali di produrre ormoni e di darci il nutrimento tra un pasto e l'altro. Questa cellula bruna fa tutto un altro mestiere. Qual è questo mestiere? Quello di produrre calore. Uno subito si chiede, no? Ma che importanza ha produrre calore? Perché bisogna produrre calore all'interno del nostro organismo? Perché le nostre cellule funzionano solo a 37 gradi centigradi. Il che significa che se noi abbiamo una temperatura corporea di 38 gradi centigradi, sappiamo tutti che stiamo su un letto sdraiati e non riusciamo più a fare niente. Abbiamo la febbre. Questo ci indica quanto sia importante mantenere la temperatura stabile a 37 gradi centigradi. E pensi che la temperatura in cui vive l'uomo sulla Terra è una temperatura variabile tra meno 70 gradi centigradi a più 45 gradi centigradi. Quindi la temperatura del corpo umano è più vicina ai valori massimi che non ai valori minimi. E quindi questo significa che spesso ci troviamo nella condizione di dover richiedere la formazione di calore da parte del corpo umano. E chi produce questo calore? Questa cellula bruna. Ora, come fa a produrre il calore? Brucia i grassi. Cioè quelli che noi manteniamo come riserva energetica all'interno della dipocita bianco, vengono presi da questa cellula bruna che li brucia, li disperde sotto forma di calore. Questo da una parte fa un'azione favorevole al nostro organismo perché mantiene la temperatura come dicevamo prima, ma dall'altro fa un altro lavoro estremamente interessante perché al giorno d'oggi l'obesità è una condizione molto diffusa e sappiamo tutti quali conseguenze porta dannose all'organismo, si muore prima, vengono patologie come il diabete, la terosclerosi e la steatosi empatica, quindi patologie molto importanti. Per cui ecco che il ricercatore, noi, ci siamo chiesti come poter sfruttare questo concetto della cellula brucia grassi. Ecco perché è importante sapere delle cellule staminali, perché le cellule staminali sono le stesse, quelle che danno luogo alla formazione della dipocita bianco e della dipocita bruno. E tutto ciò ha la conseguenza che ci permette di capire un fenomeno straordinario che avviene all'interno di questo organo adiposo, cioè che la componente bianca si può trasformare come per magia nella componente bruna, la brucia grassi. Lei capisce che questa è un'osservazione estremamente importante, perché le cellule sono un po' come le persone, io sono un medico e come mestiere curo i malati, però improvvisamente come se io mi cambia, si avviene un fenomeno che mi cambia completamente, mi trasforma in un ingegnere e vado a costruire le case. È questo che avviene tra queste cellule, un fenomeno che abbiamo chiamato di transdifferenziazione. Allora aver scoperto che c'è un'unica cellula di origine che dà luogo alla formazione di tutti e due questi tipi di cellule, ecco che assume una particolare importanza, perché permette di capire meglio come ci sia la possibilità di riprogrammare geneticamente, fisiologicamente queste cellule e trasformare un tipo in un altro, con un fenotipo quindi dell'organo adiposo più conveniente, atto a curare l'obesità e il diabete e tutte le conseguenze. Ecco professore, per semplificare ovviamente anche chi ci segue da casa e dare ovviamente anche dei messaggi di ottimismo in quello che ovviamente sarà poi la continuazione di questa ricerca anche nella trasformazione poi farmacologica, pensa quindi che si possa da un punto di vista farmacologico ricostruire le cellule brune che in qualche maniera alcuni soggetti non hanno o per fattore genetico o per sovrappeso o per altre patologie e quindi poterle ricostruire e agire in questo senso. Ecco questa ricerca potrà aiutare questa gente a ritrovare le cellule brune che ripetiamo sono le cellule che bruciano i grassi? Esatto, è proprio così, questo è il punto cruciale, no? Trovare un farmaco che agisca direttamente sulle cellule bianche trasformandole in cellule brune. Ora questo fenomeno avviene in natura quando noi ci esponiamo al freddo. Pensi che in Siberia per esempio ci sono milioni di persone che vivono al freddo e mi hanno proprio chiamato per cercare di capire come mai da 40 anni a questa parte era in quella regione del mondo aumentata in maniera paurosa la quantità di obesità, di diabete, eccetera, eccetera. Che cosa era successo? Avevano messo il vetro alle finestre. Perché? Cosa c'era prima? Prima mettevano il ghiaccio, cioè la temperatura a cui erano abituati a vivere era estremamente più bassa rispetto a quella a cui sono abituati negli ultimi 40 anni. Questo significa che lo stimolo del freddo che aumenta la quantità di grasso bruno, aumenta la funzione del grasso bruno è uno stimolo estremamente salutare. Per cui quali sono i meccanismi molecolari che consentono l'attivazione del grasso bruno e la trasformazione nel grasso bruno? Sono meccanismi che agiscono su un recettore di queste cellule, un recettore particolare che si chiama beta 3, per cui il farmaco è un beta 3 agonista. Bene, nel topo questi farmaci beta 3 agonisti sono in grado di curare l'obesità e il diabete. Quindi questo è molto importante e le industrie farmaceutiche si sono date da fare per creare lo stesso tipo di farmaci ma che funzioni nell'uomo. Ed è stato creato il primo farmaco beta 3 agonista che funziona anche nell'uomo. Ora questo farmaco purtroppo ha ancora dei piccoli difetti che devono essere modificati, migliorati, per cui ancora non è usabile. è in commercio. No, è in commercio. Ah, è in commercio nonostante questi difetti. Nonostante questi difetti perché se lo vogliamo usare per l'obesità e per il diabete allora bisogna usare a dosi che creano questi difetti. Ma se noi lo usiamo a dosi inferiori ha proprietà salutari su altri aspetti perché viene usato per la vescica iperdinamica. Però già si stanno facendo degli studi con l'uso cronico di questo farmaco per vedere se ci sono miglioramenti anche di ordine metabolico e in effetti sono stati trovati dei miglioramenti di ordine metabolico. Ma ripeto deve essere assolutamente migliorato per cui ancora adesso non è pensabile usarlo per questo tipo di terapia però fa ben sperare perché fino a qualche anno fa non c'era nessun farmaco che potesse agire in questo senso. Mentre adesso non solo c'è questo farmaco che già ha alcune di queste proprietà ma si stanno sviluppando anche altri farmaci che vanno nella direzione di trasformare l'organo adiposo in un organo adiposo più ricco di tessuto adiposo bruno più funzionale. Anche perché credo di aver intuito che questo farmaco comunque è antecedente la vostra ricerca giusto il risultato della vostra ricerca? No no questo farmaco è stato scoperto dopo ma lei fa riferimento alla scoperta della cellula staminale del tessuto adiposo che risale a parecchi anni fa. Ok perfetto e quali sono scusi professore questi questi difetti che ancora questo farmaco sono? Il difetto principale è che aumenta la pressione sanguigna siccome il soggetto obeso ha diciamo di solito già un problema grosso di tipo ipertensivo è chiaro che non si può dare. Senta professore ma lei ha detto che questo ovviamente meccanismo tra grasso bruno e grasso bianco quindi l'accelerazione della fase in cui si brucia il grasso avviene in maniera migliore in paesi in cui le temperature sono più rigide ma quindi questo giusto per non creare problemi poi magari chi ci segue in paesi in cui c'è comunque una temperatura elevata non cosa vuol dire che tutti quelli la popolazione tende ovviamente a soffrire di alcune patologie? Beh sì in effetti è proprio così nel senso che l'esposizione al freddo favorisce il grasso bruno quindi la temperatura elevata sicuramente non facilita il dimagramento questo anzi tende a facilitare l'obesità e il diabete. Ecco allora quale sarà immagino che la vostra ricerca non sia finita no comunque sia ovviamente? Abbiamo tante cose ancora da capire. Ecco su cosa vi state indirizzando adesso professore? Beh adesso abbiamo appena finito una ricerca sul covid dove abbiamo individuato il fatto che i soggetti con il covid hanno un'infiammazione, bisogna fare una premessa, non è che abbiamo studiato solamente il grasso bianco e il grasso bruno, abbiamo studiato anche la patologia dell'obesità nel senso che questa cellula diposa quando il bilancio energetico è positivo diventa molto più grossa e che cosa succede? Che c'è un limite all'espansione di questa cellula, è come il palloncino no? Il palloncino si può gonfiare, gonfiare, gonfiare però a un certo momento scoppia e così succede con la cellula diposa. Quando la bilancia energetica è positiva in maniera cronica la cellula cerca di accumulare sempre di più queste molecole energetiche ma raggiunto il limite massimo scoppia, cioè muore. Allora cosa succede quando la cellula diposa è morta? Succede che si creano dei detriti cellulari che non possono rimanere all'interno dell'organo, devono essere spazzati via e il nostro organismo ha delle cellule preposte a fare da spazzini e queste cellule si chiamano macrofagi, per cui nel soggetto obeso il grasso viene infiltrato da questi macrofagi che creano un'infiammazione cronica di basso grado. Quando questi spazzini ripuliscono l'organo, cioè fanno un lavoro molto importante, positivo per il nostro organismo, hanno anche però degli effetti collaterali, cioè producono delle molecole che vanno ad interferire con la funzione del recettore dell'insulina. L'insulina è quell'ormone pancreatico che permette il passaggio del glucosio all'interno delle cellule. Se non funziona questo recettore il glucosio rimane fuori ed ecco che si crea quella condizione, detta molto in parole povere e succinta, il diabete. Ecco perché il soggetto obeso ha un alto, un elevato rischio di diventare diabetico, proprio per questo meccanismo che alla base ha questa infiammazione del tessuto adiposo da parte dei macrofagi. Bene, quello che abbiamo scoperto recentemente, è stato pubblicato alla fine del mese di gennaio di quest'anno, è che il grasso del soggetto colpito da Covid è molto più infiammato rispetto al grasso del soggetto a parità di peso corporeo. Questo che conseguenza ha? Che questi residui lipidici che infestano il grasso del soggetto con il Covid dovuto alla morte delle cellule adipose passano nel sangue e vanno nella circolazione sanguigna, andando a finire nel polmone, quindi creando un problema dovuto alla presenza di questi lipidi all'interno del polmone. Le polmoniti da Covid sono in genere improvvise e bilaterali. Il meccanismo che abbiamo scoperto offre una spiegazione al fatto che ci siano queste polmoniti bilaterali improvvise. E c'è anche un altro fattore molto importante che abbiamo scoperto, cioè che le membrane ialine, cosa sono le membrane ialine? Sono una specie di membrana che si dispone sugli alveoli e impedisce la respirazione di questi soggetti. Queste membrane ialine sono di natura lipidica, quindi potrebbero essere correlate all'embolia grassosa che ho spiegato prima. Davvero molto importante perché una volta che avete individuato questo dato si può cominciare a pensare anche come contrastarlo, no? Sì, sì, infatti è molto importante, secondo noi, fare una terapia antinfiammatoria molto precoce. Non aspettare niente alla prima fede. Quindi la vigili attesa non è auspicabile. No, secondo me è molto importante iniziare subito con una terapia antinfiammatoria, con farmaci antinfiammatori, soprattutto quelli liposolubili che vanno ad agire e quindi sul grasso, perché tutto nascerebbe dall'infiammazione del grasso. Guardi, professore, la ringraziamo doppiamente anche per questa ulteriore informazione che ci ha dato, perché ovviamente apre qua nuovi scenari, ci si è dibattuto molto sulla necessità di intervenire subito, di aspettare, insomma, durante questo periodo della pandemia sono stati fatti tante ipotesi. Io sono sempre stata, pur ovviamente non essendo un medico, dalla parte di coloro che sostenevano che bisognava agire in maniera immediata per arginare quelle che erano le infezioni, anche con antinfiammatori. Abbiamo fatto diverse trasmissioni in questo senso, quindi sono doppiamente felice che la vostra ricerca abbia confermato che quanto detto era ovviamente veritiero. Professore, siamo davvero in chiusura, le desidero fare un'ultimissima veloce domanda. Secondo lei, al di là della questione farmacologica, c'è qualcosa che possiamo consigliare a chi ci segue, che possa essere stile di vita, alimentare o meno, affinché tutto ciò che il grasso bruno, quindi la parte che è positiva, abbia un suo equilibrio nel nostro organismo? Assolutamente sì, lo stile di vita è fondamentale e tutti sanno che lo stile di vita prevede non solo una dieta possibilmente di tipo mediterraneo, ma soprattutto legata a un numero di calorie equivalente o inferiore rispetto a quello che noi consumiamo durante la giornata. ma anche l'attività fisica è estremamente importante, ricordiamo almeno i 10.000 passi al giorno e come ultimo suggerimento ricordiamoci di non tenere troppo elevato il riscaldamento durante il periodo invernale, 18-19 gradi centigradi dentro casa durante l'inverno sono salutari. Ecco, e con il caro Bolletta credo che questo sia anche... Ha maggior ragione. Ha maggior ragione lo dobbiamo fare. Sono ancora più salutari. Ecco, salutare da tutti i punti di vista. Professore, noi la ringraziamo davvero tantissimo per la sua professionalità e anche simpatia. Grazie, grazie tante a voi. Grazie davvero al professor Severio Cinti dell'Università Politecnica delle Barche. Grazie ovviamente a tutti voi di aver seguito, come sempre, il nostro Medex News. Grazie a tutti.